Incidente sulla statale 117 bis, una donna perde la vita, quattro feriti. Tentata rapina a un negoziante con pistola e coltello, la polizia esegue quattro ordinanze di custodia catelare agli arresti domiciliari. Assenteismo, processo per 13, alcuni dipendenti, altri ex dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici di Caltanissette ed Enna. Si è spento Biagio Conte, ricordo delle sue visite nel Nisseno. Ben trovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale. Apriamo parlando di cronaca, incidente sulla statale 117 bis, una donna perde la vita, quattro feriti. Dettagli nel servizio, sentiamo. Un altro grave incidente in Sicilia. Il sinistro si è verificato sulla strada statale 117 bis all'altezza dello svincolo per Piazza Armerina, dove un'auto con a bordo quattro persone si è scontrata frontalmente con un camion. L'impatto è stato violentissimo. Il bilancio parla di un morto, si tratterebbe di una donna della provincia di Ragusa e di quattro feriti gravi che sarebbero stati trasportati negli ospedali di Gela, Piazza Armerina, Caltagirone e Caltanissetta. Sul posto sono intervenute tre ambulanze arrivate da Gela, Niscemi e Piazza Armerina e due elicotteri di soccorso del 118. Il tratto di strada dove si è verificato l'incidente è rimasto chiuso in entrambe le direzioni, con il traffico che è stato deviato lungo la viabilità limitrofa. Subito sono arrivate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per i rilievi del caso e favorire il normale ripristino della viabilità. Tentata rapina a un negoziante con pistola e coltello. La polizia esegue quattro ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari. La polizia di stato di Caltanissetta ha eseguito quattro misure cautelari nei confronti di quattro giovani per tentata rapina. L'episodio si è verificato lo scorso settembre, quando tre minorenne o maggiorenne armati di pistola e coltello tentarono di rapinare un negoziante del centro storico. Così la squadra mobile, nel corso delle indagini preliminari, ha eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari emesse dal GIP del Tribunale Ordinario e del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, su richiesta delle rispettive procure della Repubblica nei confronti di tre minorenne o maggiorenne per tentata rapina. In particolare, quattro indagati sono sospettati di aver tentato di rapinare un commerciante che ha una rivendita di oggettistica nel centro storico del capoluogo Nisseno. Lo scorso mese di settembre, infatti, la polizia era intervenuta nell'attività commerciale a causa di una rapina. Le vittime presenti all'interno del negozio hanno raccontato che quattro giovani travisati, dei quali uno armato di pistola e coltello, le avevano minacciati per impossessarsi del denaro contenuto nella cassa. Poi, a causa della resistenza del titolare, erano riusciti a scappare prima dell'arrivo delle volanti. Grazie alle indagini è stato possibile individuare uno dei rapinatori, vestito allo stesso modo del giorno in cui aveva tentato la rapina. Il giovane, inizialmente reticente, in presenza del padre, ha ammesso ogni responsabilità e ha collaborato con la polizia per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Così è stato possibile individuare gli altri sospettati, i quali, anche loro in presenza dei propri genitori, hanno ammesso le loro responsabilità, consegnando la pistola e il coltello utilizzati per tentare la rapina. Il presidente dell'ASCOM Sicilia, Francesco Trainito, e il coordinamento di Caltanissetta ringraziano le forze dell'ordine per l'attività di indagini che ha portato ad emettere quattro ordinanze di custodia cautelare per il reato di tentata rapina nei confronti di un'attività del centro storico, si legge in una nota, anche questa volta prosegue il documento, le forze dell'ordine hanno dato dimostrazione di impegno, professionalità e vicinanza alla cittadinanza, nonostante le difficoltà dovute alle carenze di personale. Siamo certi, proseguono, che anche gli ultimi casi verificatisi in città verranno risolti assicurando alla giustizia gli esecutori di tali azioni. Assenteismo, processo per 13 alcuni dipendenti, altri ex dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici di Caltanissetta ed Enna. Sono state rinviate a giudizio per assenteismo tutti i dipendenti dell'Urega di Enna e Caltanissetta o quasi dopo il licenziamento deciso dalla Regione. L'indagine della Guardia di Finanza, iniziata nel giugno di tre anni fa, ha dato il via a dieci misure interdittive, anche se poi il riesame le ha revocate. Per i 13 imputati, le accuse avanzate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta sono di truffa aggravata e di falsa attestazione e certificazioni in relazione alle presenze in servizio. Secondo la tesi dell'accusa, infatti, gli imputati si sarebbero allontanati arbitrariamente dall'ufficio dove prestavano servizio, con assenze anche prolungate, per motivi personali e non relativi alla mansione lavorativa. Inoltre, sempre secondo le indagini, per essere sicuri di non essere scoperti, si sarebbero coperti tra loro con tacita complicità. Si è spento Biagio Conte, il ricordo delle sue visite nel Nisseno. È morto questa mattina a Palermo Biagio Conte, 59 anni, missionario laico, protagonista di numerose battaglie in difesa dei poveri e degli indigenti a Palermo, dove nel 1993 aveva fondato la missione Speranza e Carità. Era malato da tempo e in questi giorni si sono stretti a lui i volontari e gli ospiti della comunità che aveva fondato. Una vita spesa per gli ultimi, quella di Biagio Conte, che ha creato a Palermo, in provincia, nove comunità. Figlio di imprenditori edili, a 16 anni abbandona la scuola e inizia a lavorare nell'imbresa edile della sua famiglia, ma a causa di una profonda crisi spirituale, decide di allontanarsi dalla famiglia nel 1983 andando a vivere a Firenze. Nel maggio del 1990 la scelta di vivere come eremita, ritirandosi nelle montagne dell'entroterra siciliano e successivamente facendo un viaggio interamente a piedi verso la città di Assisi. Torna a Palermo per salutare i familiari, con l'intenzione di trasferirsi in Africa come missionario, ma lo stato di miseria in cui ritrova la sua città lo porta a cambiare idea. Negli anni Biagio Conte è venuto più volte nel Nisseno, a Caltanissetta in cattedrale dove ha dormito per terra e l'indomani andando a San Cataldo a piedi per essere accolto dall'arcivescovo Biancheri e pregare sulla tomba di Aldonaro. Anche il presidente della regione, Renato Schifani, ha lasciato un pensiero per il missionario di Cento. Ci ha ricordato come, per ogni cristiano, la carità sia una condizione essenziale della propria essenza umana e attuazione concreta della propria fede. Regione Siciliana, pagamenti a dicembre contabilizzati oltre 17.000 mandati. C'è soddisfazione nel governo della regione Sicilia per i circa 17.500 mandati di pagamento contabilizzati dalla ragioneria della regione nel solo mese di dicembre 2022. È stato l'assessore all'economia, Marco Falcone, a rendere pubblico il dato. Malgrado le ristrettezze in termini di personale e la necessità di aggiornare alcuni processi organizzativi, afferma l'assessore, la chiusura contabile dell'anno scorso ha fatto registrare una buona performance dei nostri uffici, facendo sì che la regione onorasse i propri impegni. Anche il presidente della regione, Renato Schifani, ha espresso soddisfazione. La certezza dei pagamenti della regione nei tempi indicati dai contratti è fondamentale per sostenere il tessuto produttivo dell'isola, anche perché i ritardi hanno conseguenze importanti su migliaia di operai e impiegati. Il mio governo ha affrontato la questione in modo celere e continueremo a lavorare per rendere sempre più efficiente il sistema. Per quanto riguarda le operazioni contabilizzate dagli uffici, soltanto meno del 6% del totale non ha potuto concludersi. Il primo gruppo di mandati è già stato riprotetto con appositi decreti di liquidazione e verrà ripagato dal 18 gennaio in poi. Per gli altri, continua Falcone, si procederà con la liquidazione una volta effettuate le necessarie correzioni e comunque entro febbraio. La percentuale di mandati non ultimati, di per sé molto bassa, conclude l'assessore all'economia, sarà ulteriormente ridotta negli anni a venire. Covid in Sicilia, bollettino settimanale, contagi, lieve aumento. Il tasso più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Ragusa, Palermo e Messina. Nella settimana dal 2 all'8 gennaio in Sicilia si è assistito a un lieve incremento delle nuove infezioni da Covid, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. I nuovi positivi sono stati 11.284, con un'incidenza di 235 su 100.000 abitanti. Il tasso più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Ragusa, Palermo e Messina. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano gli over 90, quella tra i 70 e i 79 anni, e tra gli 80 e gli 89 anni. Questi i dati diffusi nell'ultimo bollettino settimanale del Dipartimento Attività Sanitaria e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve aumento, sebbene la diffusione dei contagi progressi si riflette ancora su una prevalenza di soggetti ospedalizzati con positività concomitante da Covid. Più della metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultata non vaccinata. Per quanto riguarda le vaccinazioni, i soggetti nel target 5-11 anni con almeno una dose si attestano al 24,09%. Sono 63.827 i bambini, pari al 20,71%, che hanno completato il ciclo primario. Nel target over 12, i vaccinati con almeno una dose sono il 90,93%. Sono ancora 1.057.593 i cittadini che non hanno fatto la terza dose aggiuntiva booster. Le somministrazioni della quarta dose sono complessivamente 226.408, di cui 200.259 a soggetti over 60. Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 7.173. Nominati i vertici di cinque società partecipate della regione siciliana per altre due, le procedure si concluderanno tra qualche giorno, cioè lunedì prossimo. Le assemblee dei soci, così come disposto dal presidente della regione, hanno provveduto a rinnovare i consigli di amministrazione. Alla SAS, presidente Mauro Pantò, componenti Rosalia Cardinale Confermata e Alfredo Vinci Guerra. All'IRFIS, neopresidente Tommaso Dragotto, mentre i componenti sono Giuseppe Guglielmino e Vincenza Barberi. Per Sicilia Digitale, il nuovo amministratore unico è Riccardo Di Stefano. Alla SEUS, presidente Gabriele Castro, Maria Stella Marino e Pietro Marchetta confermato i componenti. Conferma in toto invece per l'AST, Salvatore Castiglione, presidente, Tania Pontrelli ed Eusebio Dalì, componenti. La legge 197 del 2022 prevede l'annullamento automatico dei singoli debiti affidati all'agente delle riscossioni di amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali da gennaio 2000 a dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro. La legge 197 del 2022 prevede l'annullamento automatico dei singoli debiti affidati all'agente della riscossione da amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali da gennaio 2000 a dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro. L'importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardate iscrizioni a ruolo e sanzioni. La norma stabilisce che per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, lo stralcio riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Mentre per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della Strada e le altre sanzioni amministrative, lo stralcio si applica limitatamente agli interessi comunque denominati e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Inoltre, dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla data dell'effettivo annullamento stabilito dalla norma al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell'ambito applicativo dello stralcio, compresi quelli scritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Per maggiori chiarimenti, si consiglia di consultare la sezione dedicata agli enti creditori. Si precisa infine che la misura relativa allo stralcio fino a 1.000 euro non trova applicazione, fra gli altri, per il recupero degli aiuti di Stato considerati legittimi dall'Unione Europea, per i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti, per le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Il Movimento di Volontariato Italiano e l'Associazione Nuovo Orizzonte rendono noto che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale ha approvato e finanziato il progetto Accogliamoci 2021. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 10 febbraio 2023 alle ore 14 esclusivamente attraverso apposita piattaforma. Per partecipare è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 29 non compiuti ed essere disoccupati, si legge in una nota. L'operatore dovrà garantire la disponibilità di 25 ore settimanali per le quali il Dipartimento per le Politiche Giovanili erogherà un assegno mensile pari a 444,30 euro. Anche la FIDAS Nissena potrà accogliere quattro operatori volontari di età compresa tra i 18 e i 28 anni che parteciperanno al progetto Cammini di Vita nell'ambito del Servizio Civile Universale per l'appunto. La durata del progetto è sempre di 12 mesi, monte ore annuo pari a 1.145 ore su 5 giorni di servizio settimanali. È possibile ricevere ulteriori informazioni sul progetto attraverso il sito della Fondazione Piacasa. Anche in questo caso, gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso l'apposita piattaforma online entro le ore 14 del 10 febbraio 2023. La legge di bilancio 2023 introduce una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione da gennaio 2000 a giugno. Sentiamo. La legge di bilancio 2023 introduce una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione da gennaio 2000 a giugno 2022. In particolare, la disposizione prevede la facoltà per il contribuente di estinguere i debiti scritti al ruolo senza corrispondere alle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora o il cosiddetto agio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi o comunque a somme maturate a titolo di agio. Per usufruire della definizione agevolata entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. È possibile pagare gli importi in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure in un numero massimo di 18 rate di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. In caso di omesso, ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni anche di una sola rata, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Infine, non rientrano nel beneficio della definizione agevolata alcune tipologie di cariche esclusi in ragione della loro natura, fra cui il recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Calta Nissetta venerdì sera a concerto della cantautrice Patrizia Cirulli al Margherita nell'ambito della nuova stagione di Musicarte. A volte io vorrei arrivare in cima ai tuoi segnali per intuire tutti i sensi unici Riprende l'attività concertistica dell'Associazione Culturale Musicarte con il concerto del quartetto di Patrizia Cirulli che presenta l'album Fantasia, uscito ad ottobre 2022 per Squilibri, interamente dedicato ad Edoardo De Filippo. La Cirulli ha avuto per la prima volta il via libera dalla famiglia De Filippo per poter utilizzare le poesie del grande autore napoletano e trasformarle in forma canzone e in questa tournée, oltre a cantare, suona la chitarra ed è accompagnata da Renato Caruso alla chitarra, Mattia Boschia al violoncello e Gaetano Capitta alle percussioni. Il concerto di Patrizia Cirulli che è il primo della 31esima stagione concertistica jazz di Musicarte si svolgerà al Teatro Comunale Regina Margherita di Caltanissetta venerdì 13 gennaio alle ore 21. Patrizia Cirulli è una cantautrice, compositrice e autrice di Milano dalla voce insolita e straordinaria come l'ha definita un giorno Lucio Dalla e si muove artisticamente fra musica leggera e musica d'autore. Per tre volte finalista al premio Tengo e per tre volte vincitrice del premio Lunezzi ha collaborato con vari artisti fra cui Sergio Cammariere, Mario Venuti, Fausto Mesolella, Vince Tempera, Pacifico e Sergio Muniz. e rimango qui da sola dipingo la memoria alle pareti lo so che quasi sempre io dimenticavo il senso non respiravo venti più leggeri è scivolato tutto e niente ti appartiene Repertorio spagnolo della chitarra classica venerdì alle 19 a San Domenico musicisti in concerto con le chitarre del liutaio argentino Eduardo Robles il programma prevede l'esibizione di Maria Rosario Palma Dutto Elias Saul Dominguez e Carlo Santi l'ingresso al concerto sarà libero e gratuito e adesso parliamo dell'università senza età San Pietro un laboratorio di danze popolari in parrocchia ogni mercoledì La Ciapelloise, il circolo circasso-circazziano questi alcuni dei balli popolari eseguiti nei locali della parrocchia di San Pietro durante il laboratorio di danze popolari dell'università senza età si incontrano ogni settimana il mercoledì nel tardo pomeriggio per imparare i passi di quei balli popolari che fanno parte della tradizione di diversi paesi del mondo e danzare a livello amatoriale per un'oretta sono circa una decina le corsiste che partecipano al laboratorio curato dalla volontaria Alessandra Giunta appassionata di danze popolari Una mia amica me l'ha detto dice vuoi venire che c'è un corso di danza io sono venuta e mi sono trovata benissimo Sta per concludersi il primo quadrimestre dell'università senza età con gli ultimi incontri anche degli altri corsi inglese, la storia controversa e astri che non si spengono uomini illustri e astronomia a febbraio comincerà invece il secondo quadrimestre Siamo alle battute finali di questo primo quadrimestre di quest'ulteriore anno vissuto all'insegna della formazione culturale della formazione relazionale ricordo sempre che l'università senza età è un progetto socio caritativo culturale diverse sono state le adizioni dei quattro corsi che abbiamo portato avanti che si concluderanno in queste ultime settimane di gennaio siamo in attesa del nuovo programma della programmazione del secondo quadrimestre che si avvierà poi ai primi di febbraio avremo modo poi di comunicare alla cittadinanza nel momento in cui i manifesti e le locandine saranno pronti per avvisare tutti coloro che desiderano partecipare a questi corsi che ricordo sono gratuiti e sono aperti a tutti per vivere dei momenti di condivisione e di crescita culturale e nello stare insieme tutti i docenti che fanno parte dei corsi sia quelli in maniera occasionale settimanale sia in maniera stabile vengono tutti gratuitamente e sono tutti dei volontari che svolgono questo servizio nei confronti della cittadinanza e adesso andiamo allo sport, calcio, eccellenza Nissa, modulo e vignone pronti al debutto sul campo dell'oratorio di Marineo la Nissa si rinforza ancora sul mercato di riparazione e testa dai due sudamericani modulo e vignone dopo mesi infatti è arrivato il transfer per modulo argentino classe 93 da alcune settimane già in forza e bianco scudati vignone è il classico centravanti sudamericano uruguaggio classe 98 arriva da Montevideo e in passato ha giocato anche nelle file dell'huracan abbiamo ascoltato i due nuovi acquisti oltre ai commenti del mister Alessio Sferrazza e del direttore tecnico Antonio Emma Dopo la lunga testa sono molto contento di essere tesserato finalmente è arrivato il transfer sono molto contento e di questa squadra mi aspetto soltanto quello che sta facendo finora io sono arrivato per fare il mio lavoro dare il mio contributo alla squadra quello che mi ha convinto è passare il progetto della Nisa è stato questo progetto di portare avanti della squadra arrivare lontano poi sono arrivato mi sono reso conto che è una società seria uno staff competente poi i ragazzi mi hanno colto alla grande sì è vero che lui sarebbe anche un preferente per me però il mio maggiore idolo è Martín Palermo che è argentino ci stiamo allenando bene abbiamo ripreso alla grande domenica ora bisogna dare continuità facendo dei punti fuori casa quindi stiamo preparando al meglio questa trasferta l'obiettivo è sicuramente fare quanto i più punti possibile ripagare la fiducia che la società mi ha riposto valorizzare il lavoro svolto dal direttore tecnico il direttore generale mettendo a disposizione degli elementi importanti che stanno valorizzando l'intera rosa ma non so il direttore se farà qualche altro regalo io sono già abbastanza appagato comunque della campagna acquisti però con Antonio sappiamo che dall'oggi al domani può cambiare anche qualche altra cosuccia però diciamo per il 90-95% della rosa è sistemata un lavoro è sempre un lavoro fatto di gruppo penso che una persona da solo non può riuscire insomma a fare questo bel lavoro che è stato fatto nelle ultime settimane e quindi devo ringraziare chiaramente chi mi ha collaborato la squadra è già penso che è abbastanza competitiva abbiamo con tutto il gruppo che ha fatto il mercato con me a capo abbiamo chiaramente pensato anche al futuro quindi preso giocatori di età giovane comunque di prospettiva che però sono già pronti e lo stanno dimostrando ogni partita quindi penso che da oggi possiamo dire basta il mercato in entrata bene anche per oggi dunque è tutto non ci sono ulteriori aggiornamenti ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale intanto vi lascio al meteo e le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito ben ritrovati un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì quando sull'Italia ritroveremo ancora correnti umide dai quadranti nord occidentali interessate le nostre regioni ma soprattutto da domenica ci sarà un importante cambiamento sull'Europa perché correnti artiche dal nord atlantico raggiungeranno tutta l'Europa centrale possiamo già vedere questo fronte interessare l'Europa centrale quindi da domenica in poi condizioni prettamente invernali sul vecchio continente con piogge e nevicate intanto guardiamo quello che succederà sull'Italia venerdì con il passaggio di estese velature e stratificazioni a tratti anche compatte prossime immagini ci fa vedere come qualche locale precipitazione interesserà le Alpi più settentrionali in giornata poi Spezzino Toscana settentrionale discreto altrove ma con tanta variabilità in serata le nubi torneranno ad essere compatte sul Lazio e la Campania con qualche piovigine ulteriori dettagli approfondimenti scaricando l'appo gratuita di Trevi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno San Pio X Via Napoleone Colaianni Servizio notturno San Pio X Via Napoleone Colaianni Servizio di